musica non compriamo niente siamo a posto grazie attenzione che si mette le cuffie da sport probabilmente non parlerà più con noi ciao iuri scusa parlo con star wars scusa 2 eccellerati così cosa devo fare pronti si si dai ma dai mi chiamo adesso sto ricoglionito chiama chiama perchè hai aspettato cioè hai chiamato subito doveva ancora cambiarsi la faccia pronti bella benissimo via che lavaga ripresa number one guardatevi anche girate il casco guardatevi più bassi mi hanno detto che cazzo fa stupida ed ecco chi il cerchione appena ruinato il suo commento simone buon natale che carino eh no ma lasciamo stare dai vai eh che è sto dove marcia oh oh va bene il caffè Giro? fenomeno ciao Giro ciao Giro andiamo che cazzo film questa non si deve muoverla la telecamera no arrivo eh da che parte vengono? amore giù di là così? qua non c'entra vai oddio questa è la ripresa l'hai ripresa? si si in due a riprenderlo Yuri va fuori dalla ripresa torna qua poi ritorna poi ritorna qua per la merenda guarda 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 che disagio sta scegna fa cagare che fente bevete? bravo vai faccela Yuri grandissimo guarda bravo stacco saluto a te continua scherzo a meno che il brindisi vai vai a meno il brindisi lo spegni pure esatto esatto